Una morte assurda, razionalmente inaccettabile, quella di Thomas Christopher Luciani, ucciso a 16 anni con una serie di coltellate per un debito di poche centinaia di euro che la vittima doveva per droga. Una follia cieca, ancora più inspiegabile perché ad infierire sul ragazzo sono state le mani di coetanei. La polizia ha fermato i due presunti esecutori materiali. Le indagini continuano per trovare l'arma usata, un coltello da sub e per ricostruire nei dettagli quanto accaduto domenica pomeriggio nella Parco Baden Powell nel pieno centro a Pescara. Ad aiutare gli inquirenti le testimonianze dei ragazzi e anche le telecamere del palazzo a ridosso del parco. Oggi sul quotidiano Il Centro è riportata una sequenza di immagini che riprende i ragazzi all'interno della struttura. Nell'articolo la ricostruzione di quanto è presumibilmente accaduto in base alle testimonianze dei ragazzi coinvolti. Altri cinque ma rimasti all'ingresso del parco forse seduti su questa panchina. Quindi il cambio dei vestiti documentato dalle telecamere del posto di uno dei presunti assassini. Il gruppetto poi si è spostato in spiaggia. Il coltello usato per colpire Thomas potrebbe essere stato gettato in mare. Uno di loro però tornando a casa è crollato e ha raccontato tutto ai genitori. Il macigno era troppo pesante e quanto accaduto troppo grave. E così dopo poche ore la polizia era già sul posto a recuperare il corpo del povero Thomas. Questa mattina il luogo del delitto si presentava così. All'ingresso fiori e messaggi di cordoglio per Thomas. Alcuni fanno riflettere sull'impotenza di riuscire a capire e a proteggere la vita di un ragazzo così giovane. Altri sono amari e anche inquietanti. Quasi rifiutano la vita come valore, dimenticando che la stessa è unica e irripetibile. Al parco nessuno ha voglia di parlare ma soltanto di pregare e riflettere sulla morte di Thomas, racchiusi in un dolore che dobbiamo provare a condividere tutti per renderlo più sopportabile. Da questa tragedia deve fiorire quell'umanità e quella voglia di vivere che è fondamentale trasmettere ai più giovani.